E' scomparsa l'insegnante di 102 anni, Michela Ponte, che solo qualche mese fa con la sua storia aveva commosso la città, la signora Michela aveva dedicato la sua vita all'insegnamento proprio a Caltanissetta, così con un messaggio sui social, pieno di amore e gli operatori responsabili della struttura dove viveva, l'hanno salutata, ricordandone la dolcezza e l'animo amorevole. Per tutti era nonna Michela e sono tanti, i nonni e le nonne come lei in un paese come l'Italia crescita a zero, con una popolazione di centenari sempre più in crescita, soprattutto negli ultimi 12 anni durante i quali il dato a livello nazionale ha visto raddoppiare il numero delle persone con più di 105 anni di cui 9 su 10 sono donne. Storie di vita e di amore che passano anche attraverso i social e che lasciano il segno ed il senso di un'intera vita dedicata ai giovani e al sapere. Grazie.